ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale torno a registrare dopo qualche giorno perché ragazzi ero alla ricerca del prodotto che avete visto in copertina e soprattutto sono stato un po alla presa con le mystery box ne abbiamo vendute tante ringrazio tantissimo chi già le acquistate chi le volesse acquistare io vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione per andare sul mio vinto semplicemente andate su vinta scrivete simone collector e mi trovate qualcuno è ancora disponibile qui due di quelle che sono ancora disponibili un autografo ogni sette box ragazzi se volete ne sono rimaste pochissime e a proposito di mystery box ragazzi guardate cosa ho qui perché dico a proposito di mystery box perché ragazzi grazie alla vendita delle mystery box così come di qualsiasi cosa che vendo su vinte mi dà la possibilità di investire in nuove collezioni e quindi portarvi sempre più video davanti a voi vedete 40 bustine della nuovissima collezione e praticamente introvabile azzurri adrenaline 2024 perché ragazzi questa collezione è in esclusiva su s lunga solo negli s lunga io qui a roma ragazzi non ho un s lunga manco a pagarlo oro quindi le ho dovute acquistare mi raccomando però attenzione perché ogni bustina a tre sole carte alle s lunga si trova una bustina ogni 15 euro di spesa o con i punti fragola ma sinceramente punti fragola non so bene come funzionino dalle s lunga magari se voi avete qualche s lunga vicino a voi sapete come funziona scrivetelo sotto nei commenti che magari lo leggiamo tutti e ci informiamo al meglio dicevo una bustina quindi tre carte ragazzi perché ogni bustina ha solo tre carte ogni 15 euro di spesa ovviamente non ho svaliggiato le s lunga ma le ho acquistate su vinted attenzione perché i prezzi in questo momento sono alle stelle ho visto gente che per una singola bustina arriva anche a chiedere 3 euro quindi attenzione io per fortuna anche per farci il video ho trovato bustine a 50 centesimi a bustina tre carte dai anche per farci il video ci sta detto questo non perdiamoci in chiacchiere oggi ci andiamo a spacchettare 10 bustine le altre ce le teniamo per i prossimi giorni ma prima di andarci a spacchettare queste bustine voglio far vedere anche a voi amici di youtube che magari non mi seguite su instagram 2 new entry della mia collezione di autografi della roma questa settimana sono andato a prendere leonardo spinazzola numerato su 25 con la maglia di questa stagione quest'anno ancora non avevo nessuno con la maglia di questa stagione e poi ho vinto in asta intorno ai 20 euro questo gioco qui con la fascia di capitano nella versione mosaic questa non numerata mentre lo spinazzola su 25 dai direi che tutto sommato questa in collezione ci stanno anche perché ragazzi in collezione c'è car stop quindi ci va un po tutto quindi rifacciamo ordine togliamo le 30 che ci spacchettiamo nei prossimi giorni ci prendiamo queste 10 non ci riesce una top 11 perché sono 10 bustine ne ho prese 40 così almeno 4 video li riuscivamo a fare e allora oggi ragazzi torniamo a fare una cosa una cosa che avevamo fatto sul finale di world class magari non l'avete vista in tanti ovvero andiamo a dare un voto allo spacchettamento curiosissimo finalmente di vederle quindi ragazzi non mi voglio perdere in ulteriori chiacchiere ma ci stavano ci stavano collezione da 160 o 180 carte ora un piccolo dubbio magari ve lo scrivo qui sotto possibilità di trovare autografi e patch e ragazzi andiamole a scoprire insieme tanto qui un qr code per voi ovviamente vediamo la prima alex meret portierone mamma mia ragazzi dal vivo sono ancora più belle delle foto che avevo visto circolare sotto abbiamo brian cristante tra l'altro con il numero 16 sono contentissimo di questo e sotto abbiamo giulia dragoni zaffiro bellissime anche queste zaffiro con tutto in bianco e nero con il giocatore o la giocatrice in questo caso in bianco e nero e colorata la maglietta insomma tutta la divisa prima bustina non male andiamo subito alla seconda attenzione apriamo la dietro che non vorrei rovinarle ovviamente ragazzi nelle bustine con la patch vedete queste bustine sono super super fine perché ovviamente ci sono solo tre carte nelle bustine con la patch il pacchetto è più è più grosso è più cicciotto ovviamente ovviamente ma vi dico subito che di queste non mi sembra che ci sia qualcosa anche perché chi me le ha vendute sicuramente se ci fosse stato il pacchetto più cicciotto me lo avrebbe fatto pagare di più qr code per voi tempesta azzurra al femminile giuliani bonansea linari e girelli bella questa la numero 108 bella poi l'olografia con la scritta panini ogni volta questa cosa mi fa impazzire bella bella davvero sotto abbiamo chi è matteo retegui e a proposito dai facciamo un po un po di sondaggio un po di polemicuccia anche qui ragazzi voi come 9 della nazionale a questi europei vorreste vedere retegui o scamacca scrivetemelo qui sotto e sotto retegui abbiamo matteo pessina non male quindi per il momento già la seconda bustina ci siamo trovati la tempesta azzurra femminile proprio la numero 108 andiamo con il qr code sempre per voi andiamo a vedere di lorenzo e di marco muro azzurro sotto abbiamo alex meret nella versione base e sotto una zaffiro di simone pafundi carina questa interessante così di simone pafundi collezione davvero molto bella poi piccolina quindi sarebbe anche fattibile peccato però ragazzi la distribuzione perché uscita solo negli s lunga io ragazzi sto veramente incrociando le dita perché spero tantissimo che panini si inventi qualcosa e la faccia uscire anche non dico in edicola ma almeno metta magari un servizio mancanti così portiamo anche altri video io per il momento ve l'ho detto l'avete visto 40 bustine quindi ci andiamo a fare 4 video se volete vedere di più tra l'altro c'è anche uno starter lo starter è l'unica cosa starter quindi raccoglitore più bustine più campo da gioco classico dell'adrenaline è in arrivo grazie all'amico gom ma quello sarà un video a parte poi ve lo farò vedere bene nel dettaglio intanto qui abbiamo aurora galli e sotto mattia zaccagni con la numero 20 dicevo spero proprio che panini si inventi almeno un servizio mancanti o qualcosa del genere perché questa collezione mi piacerebbe veramente completarla poi 180 carte non sono impossibili però se c'è questo tipo di distribuzione attenzione perché vedo un effetto strano qui sotto vedo un effetto strano che forse non avevamo trovato vediamo un po è una stella è una stella ed è gialluca scamacca ok intanto il qr code eccolo qui stella ancora non c'era uscita comunque ragazzi dal vivo fanno veramente tutto un altro effetto queste carte sotto abbiamo moise ken con la numero 7 e alessandro bastoni ultime 5 bustine ovviamente cosa fondamentale sarebbe quella di non trovare i doppioni e dicevo ragazzi se volete vedere altri video altri video spacchettamenti perché per il momento sicuro usciranno cinque video perché abbiamo queste bustine a spacchettare più lo starter ma se volete vedere altro scrivetemelo qui sotto nei commenti e ragazzi qui abbiamo giorginio un qr code ma attenzione perché abbiamo la top player la top player di nicolo barella di nicolo barella eccola qui bella 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 con questa olografia con la scritta panini bellissima la numero 102 e sotto nicole arcangeli zaffiro anche le zaffiro comunque veramente veramente ben fatte e ragazzi a quattro bustine dalla fine di questo video io devo dire collezione mi sbilancio ragazzi ma veramente collezione stupenda 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 però ragazzi panini deve risolvere questo fatto della distribuzione perché così è veramente un peccato un'altra top player di alessandro bastoni bellissima anche questa sotto abbiamo marco carne secchi e sotto girato francesco cerbi e dicevamo collezioncina piccolina fondamentale non trovare doppioni per il momento siamo stati anche abbastanza fortunati vediamo in questa terz'ultima bustina qr code per voi una stella che è quella di giacomo raspadori bellissimo questo effetto sotto un'altra zaffiro che fabio miretti quindi mi sembra di capire che le zaffiro saranno i giocatori più giovani e sotto abbiamo federico chiesa base ultime due bustine alla fine di questo video riusciremo a non trovare doppioni a chiudere il video senza doppioni dai diciamo che non è proprio impossibile speriamo speriamo bene si parte sempre dal qr code per voi sotto federico di marco stella e poi abbiamo cesare casa dei giocatore del chelsea e sotto abbiamo the splanches ultima bustina per il video di oggi ragazzi incrociamo davvero le dita e speriamo di non trovare nessun doppione detto fatto giorginio che mi pare c'era già uscito eccolo qui sotto va bene dai un doppione ci può anche stare sotto il qr code per voi abbiamo la zaffiro di michela catena e sotto caiode della fiorentina che dire dunque ragazzi bei bei colpacci diciamo perché due top player di bastoni e barella ma soprattutto la tempesta azzurra femminile proprio la numero 108 ed è proprio con la tempesta azzurra ragazzi che io vi ringrazio soprattutto voi che siete arrivati alla fine di ogni video come sempre fatemi sapere sotto nei commenti se volete vedere altri spacchettamenti di questa collezione